Si sta facendo molto per tutelare la natura, si è fatto anche molto in Abruzzo e al punto che c'è un leggero ripopolamento dei pochi orsi che erano rimasti. C'è poi però il lato da affrontare, cioè come mettere in sicurezza luoghi e persone e nello stesso tempo garantire l'esistenza a lunga vita all'orso, all'orsa gemma, all'orsa marena, a tutti i figli che sono arrivati. Ci sono tante polemiche sui social, su questo argomento c'è chi dice che quando si avvicinano al paese praticamente bisognerebbe ammazzarli subito perché c'è il rischio che possano assalire magari anche i bambini, ma come ci si convive? Intanto diciamo che non c'è un ripopolamento nel senso scientifico del termine, ma c'è una popolazione di orsi nell'Italia centrale, rimasta nel nucleo storico del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che conta attualmente tra i 50 e i 60 individui e che sta cercando di colonizzare altre aree al di fuori delle aree storiche appunto come quelle del Parco. Ovviamente si pone un problema di convivenza perché può succedere che l'orso nei suoi spostamenti faccia anche dei danni tipo predi delle galline o delle pecore. Esistono però dei sistemi per abbassare il conflitto sul territorio e rendere possibile la convivenza. Il WWF come gli enti, come i parchi, come tante altre associazioni provano a mettere in campo delle buone pratiche come per esempio fornire agli agricoltori, agli allevatori, alle sale, anche ai pollai che siano anti-orso oppure dei recinti elettrificati che evitano che l'orso entri, cioè danno una piccola scossa all'animale che non è assolutamente dannosa per l'orso ma che gli dà fastidio e quindi l'orso poi non torna a predare in queste aree. Il WWF è una campagna orso 2x50 e sta distribuendo questi sistemi in tutto l'Abruzzo. Però ci vuole soprattutto tanta educazione, tanta sensibilizzazione, stiamo facendo degli incontri. Tipo gli inseguimenti con la macchina per cercare di fotografarlo, poi pubblicare tutto sui social. Da sempre non si ricordano danni e aggressioni dell'orso fatto alle persone, dell'orso marsicano alle persone. Ovviamente l'orso è un grande carnivoro, è un animale selvatico e non va in nessun modo messo alle strette. Quando lo inseguiamo e lo mettiamo dentro una strada stretta, le reazioni di un animale selvatico non si possono ovviamente sapere. Però l'orso non è un animale che aggredisce, quindi se si incontra in macchina bisogna fermarsi, bisogna lasciarlo passare e assolutamente non inseguirlo. Nei paesi per esempio è anche fondamentale non lasciare fonti di cipro non custodite. Se lasciamo i cassonetti in un'area dove sappiamo che l'orso passa, poi l'orso sarà tirato da quelle fonti di cibo. Se arriva non trova niente da mangiare e se ne andrà.